Come scrive TuttoSport, si respirerebbe un'area nuova alla Juventus, anche solo durante gli allenamenti. Il livello delle sedute si sarebbe alzato in maniera vertiginosa rispetto a un anno fa, merito anche del lavoro della new entry dello staff di Allegri, Francesco Magnanelli. L'ex sassuolo ha agito spesso da offensive coordinator. Ha curato la parte relativa al recupero del pallone dal centrocampo, sfruttando il pressing alto e maggiormente aggressivo rispetto al passato. Riconquista della palla e verticalità, per sfruttare la velocità degli esterni negli inserimenti. Basta rivedere il primo gol bianconero contro il Real Madrid-Orlando, quello di Timothy Weah. Magnanelli ha portato esperienza ed energia. Si fa sentire spesso con la voce, mostra i movimenti da fare con il linguaggio del corpo, tiene alto il ritmo quando c'è da spingere durante la seduta. Il suo ingresso nello staff sta portando altra linfa al gioco allegriano. L'obiettivo è quello di sviluppare una manovra meno passiva e più reattiva. Dai primi segnali americani, la direzione è quella giusta.